Questo esercizio va abbinato a quelli che sono presentati nel post per ridurre e neoccutare l'insorgenza del fastidio durante la presa della planche. Quello che vi serve è un pezzo di giornale che sia approssimativamente dello stesso diametro che voi utilizzate nelle parallele per eseguire la planche. Quello che andiamo a fare rispetto a un semplice esercizio per la presa è andare ad impugnare con il mignolo e l'anulare in questo modo. Da qui cosa faccio? Vado ad accentuare al massimo questo che è l'angolo che si lavora nella planche e vado a stringere contro il giornale. Tra i 16 secondi torno indietro e ritorno alla posizione iniziale. Aspetto un minuto di nuovo su stringo il giornale più possibile mollo e torno giù. Grazie. Grazie.